Musica Ciao a tutti, mi chiamo Sofia e il mio canale si chiama Sofis all'interno del mio canale potrete trovare video dedicati alla bellezza quali make up tutorial, review, swatch inoltre faccio anche dei video divertenti quali challenge, video tag e anche delle cover perché amo tantissimo cantare ne approfitto con questo video per farvi tanti tanti auguri di buon Natale felice anno nuovo, spero che lo passerete nel miglior modo possibile e niente, vi saluto, ciao! Ciao a tutti, io sono Marta, il mio canale è Le Ricette di Mamica, Marta MC e volevo augurare a tutti voi un bellissimo e speciale Natale e un felicissimo anno nuovo mi raccomando, mangiate moltissimo e tante cose buone ciao a tutti, io mi chiamo Francesco, sniaolin, in arte su Youtube Snugol ho un canale dove parlo di telefoni, tablet, computer, un po' tutta questa tecnologia qua faccio recensioni in stile americano facendo riprese un po' particolari e diciamo che è una passione che porta avanti diciamo da tipo tre anni e per adesso è un divertimento, poi chissà potrebbe diventare anche qualcosa in più in ogni caso volevo fare a tutti voi i migliori auguri di buon Natale e di felice anno nuovo un saluto ciao, io mi chiamo Carlotta e sono una ragazza romana di 29 anni ho un canale su Youtube dedicato all'ASMR, ovvero al vostro rilassamento e il nome del mio canale è Le Note del Silenzio ASMR spero abbiate voglia di venirlo a visitare sono qui oggi per augurarvi un buon Natale e un felicissimo e bellissimo anno nuovo in questo momento in cui c'è veramente bisogno di pace, di serenità e di gioia per tutti quanti noi quindi ancora tanti tanti auguri, ciao! ciao ragazzi, io sono il Biker volevo farvi i miei migliori auguri di buone feste venite a vedere il mio canale Youtube, ciao! ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Nicole e anche io ho un canale Youtube il mio canale Youtube, si chiama Validottor Count parlo di fitness e di moda nel mio canale sono super appassionata di fitness attraverso questo video volevo farvi auguri per Natale buone feste, buon 2017 tanto amore per voi un abbraccio forte da parte mia e un bacio da Nicole buone feste di cuore salve a tutti amici miei volevo farvi gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo da Gennaro Devine e da tutto il Mustalla Amastim se volete seguiteci sul nostro canale Youtube Mustalla Amastim ok? grazie e arrivederci un bacione, ciao! ciao ciao raga! io mi chiamo Paola e sono del canale Paola Style mi occupo di tutto di cose serie e di cose anche molto meno serie ma non vi posso dire di più dovete venire a scoprirmi intanto vi faccio i miei più calorosi auguri per un sereno e sfavillante Natale 2016 un bacione a tutto il mondo di Youtube ciao ciao raga! ciao a tutti sono Gianna Alessia e nel mio canale tratto le mie più grandi passioni la prima è cucinare vegano e vegetariano la seconda è viaggiare auguro a tutti un buon Natale e un 2017 pieno di soddisfazioni ciao! 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 ciao a tutti e tanti auguri da Federico Borluzzi a nome del mio canale musicale Federico Borluzzi appunto spero davvero che questa stagione natalizia che è la più bella dell'anno sia molto bella e positiva per tutti voi sereno Natale a tutti ve lo dico anche in inglese Merry Christmas and Happy New Year ciao! ciao a tutti sono Letizia e il mio canale si chiama Lena Daffodils ASMR tratto appunto video ASMR che affrontano diversi tambri come tutorial o video recensioni e che è felici e siamo un po' di più a questo punto vi posso parare ad augurarvi un bellissimo Natale e felici ciao a tutti io sono Irene del canale Feel Fashion Posh a questo proposito vi invito a passare nel mio canale che parla di moda di bellezza quindi Makeup Beauty e anche Lifestyle vi servono anche qualche sorpresa di tanto in tanto auguro a voi e alle vostre famiglie delle feste serene e felici tantissimi auguri e spero di rivedervi ciao a tutti voi ciao ciao a tutti mi chiamo Giovanni Pandolfino ho 18 anni e il mio canale tratta di fitness ma anche tutto quello che mi riguarda nella vita quotidiana in particolar modo nello sport e colgo l'occasione per farvi i miei più sentiti auguri e niente un saluto ciao quello è un video speciale mi rende che emozione che emozione come vedete abbiamo la neve e tutti i nostri addobbi per fare i migliori auguri di Natale a tutti quanti mi ha spostato anche la neve buon Natale tanti bacioni buon Natale a tutti quanti auguri guarda la neve manca la canzoncina manca solo la canzoncina auguri ciao hola a todos sono Alessandra sono sarda donna moglie e mamma vi aspetto sul mio canale gufettina chic dove parlo con i video delle mie tante passioni quindi vi aspetto per condividerle tutti insieme e colgo anche l'occasione per farvi tanti tanti tantissimi auguroni di Buon Natale e Serene Feste da passare con i bustricali le persone che amate e che vi amano e anche tanti auguri per un anno nuovo che sia sempre migliore del precedente che non basta mai io vi mando tanti tanti super baciutissimi e vi aspetto sul mio canale ciao ciao a tutti sono Anna e il mio canale si chiama Cicci Chic mi occupo un po' di tutto di alimentazione di moda recensioni ricette bio e colgo l'occasione per augurarvi Buon Natale a tutti un bacio grande ciao da Anna Cicci Chic omba lomba lasciatemi quanto meno salutare i miei amici un momento per favore amici del canale io sono DC Magic e vi mando un grosso 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 ma grosso bacio vi auguro davvero di passare un bellissimo bellissimo Natale fate buone mi raccomando altrimenti a Buon Natale e sapete che io ho delle conoscenze per cui Buon Natale e Buon Natale a tutti ciao ciao a tutti mi chiamo Roy e faccio il gigolò sì l'accompagnatore per donne faccio questo video per salutare e fare tanti auguri di Buon Natale un felice anno nuovo a tutti i youtuber mi raccomando e seguite il mio canale che è gigolò Roy Dolce un saluto da Roy gli ultimi saranno i primi i primi sono già primi anche se qualcuno potrebbe considerarli ultimi nella vita non ci sono i vincitori né vinti sono grandi protagonisti del passato del presente e del futuro Buon Natale a tutti quindi grazie di cuore ciao Ezio ma no 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 l'avevo detto di non salutarmi l'avevo detto comunque grazie grazie a tutti i ragazzi per aver partecipato per aver addirito a questa mia potesta iniziativa grazie a voi tutti che ci state guardando che ci avete guardato tanti tanti auguri da parte mia da parte nostra di Buon Natale di un felice anno nuovo con la speranza che sia migliore non cambia mai niente ma comunque ci speriamo che sia migliore e niente ci vediamo al prossimo video ciao